Oggi ti guideremo nella scoperta di 10 alimenti che non solo deliziano il palato, ma possono allungare la tua vita. 1. Verdure a foglia verde. Le verdure a foglia verde, come spinaci e cavolo, sono un tesoro di vitamine e minerali. Studi dimostrano che riducono il rischio di malattie croniche, aumentando le probabilità di una vita più lunga e in salute. Il loro potere antiossidante aiuta a combattere l'invecchiamento cellulare e contribuisce a mantenere il corpo giovane. 2. Bacche. Le bacche, come fragole, mirtilli e lamponi, sono piccole bombe di benessere. Ricche di antiossidanti, contrastano l'invecchiamento. Inoltre, numerosi studi mostrano come possano aiutare a prevenire malattie degenerative. Il loro ruolo nel migliorare la salute cognitiva può essere d'aiuto per godere di una vita lunga e attiva. 3. Noci e semi. Noci e semi sono un mix di grassi sani, proteine e fibre, essenziali per la salute cardiaca. Consumarli regolarmente è stato associato a una riduzione del rischio di malattie cardiache, principali cause di morte. Promuovono inoltre una funzionalità cerebrale ottimale, importante per invecchiare bene. 4. Legumi. Legumi come fagioli, lenticchie e ceci, sono ricchi di nutrienti e proteine vegetali. Studi indicano che contribuiscono a ridurre il rischio di sviluppare malattie croniche, fattore chiave per una vita più lunga. Favoriscono inoltre una digestione sana, essenziale per l'assorbimento ottimale dei nutrienti. 5. Pesce grasso. Pesci grassi, come salmone e sgombro, sono una fonte eccellente di omega 3. Questi grassi aiutano a ridurre l'infiammazione nel corpo, aspetto chiave nel rallentare il processo di invecchiamento. Nelle isole dell'Okinawa in Giappone, nota per la longevità dei suoi abitanti, il pesce è un alimento fondamentale. Qui, l'alta assunzione di omega 3 è una delle chiavi per una vita lunga e sana. 6. Tè verde. Il tè verde è più di una semplice bevanda rilassante. È un potente antiossidante. In Cina, il tè verde è stato usato per millenni, non solo come bevanda, ma anche come medicina. Un proverbio cinese dice, meglio tre giorni senza cibo, che uno senza tè. Questa bevanda ha dimostrato di migliorare la funzione cerebrale e di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. In più, il suo effetto positivo sul metabolismo, aiuta a mantenere un peso sano, fondamentale per invecchiare in salute. 7. Cioccolato fondente. È stato dimostrato che un consumo moderato di cioccolato fondente ha effetti benefici sull'umore e sulla salute generale. Il cioccolato fondente è una delizia ricca di antiossidanti, in particolare di flavonoidi. Questi composti migliorano la salute del cuore e riducono lo stress, due fattori che influenzano la longevità. 8. Olio d'oliva. L'olio d'oliva è un pilastro della dieta mediterranea, notoriamente associata a salute e longevità. È ricco di grassi monoinsaturi, che riducono l'infiammazione e proteggono il cuore. Il suo uso regolare è associato a una minore incidenza di malattie croniche e a una maggiore aspettativa di vita. 9. Yogurt greco. Lo yogurt greco, oltre ad essere una fonte eccellente di proteine, è ricco di probiotici. In Bulgaria, un paese noto per l'alta percentuale di centenari, lo yogurt è un alimento base. Si dice che il segreto della loro longevità risieda proprio nei probiotici presenti nello yogurt. I probiotici rafforzano anche il sistema immunitario, fondamentale per combattere infezioni e malattie. 10. Aglio. L'aglio non è solo un condimento versatile, ma anche un potente alleato per la salute. Nell'antico Egitto, gli operai che costruivano le piramidi venivano nutriti con aglio per aumentarne la resistenza e la salute. Oggi, la scienza conferma quello che gli antichi egizi avevano intuito millenni fa. Le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie possono ridurre il rischio di malattie cardiache e cancro. L'aglio aiuta a mantenere bassi i livelli di colesterolo e pressione sanguigna, fattori cruciali per una vita lunga. Includendo questi alimenti nella dieta quotidiana, potrete non solo godere di piatti deliziosi, ma anche promuovere una vita più lunga e sana. Ricorda, l'alimentazione è una parte di uno stile di vita salutare. L'esercizio fisico e la gestione dello stress giocano anch'essi un ruolo cruciale. Se vuoi aiutarci a realizzare altri video, abbonati o regalaci un super grazie. Il tuo contributo è prezioso. Se hai trovato il video utile, metti un mi piace e condividilo. Se hai opinioni, domande o esperienze da raccontare non esitare a commentare.